Crudele destino Passeggiando fra i verdi prati della pianura, il mio sguardo è rapito da un bambino. Uno sfortunato destino lo ha indotto a trascorrere il resto della sua vita fra carrozzina e passeggino. Lo vedo sgambettare, immagino la sua voglia di correre e giocare, intuisco la sua voglia di lottare. E lui, come reagirà? Quando capirà che non potrà mai camminare, quando vedrà gli altri bambini correre per i prati, dirà Dio, come sono fortunati, il tuo nome è uno dei tanti, adulti e piccini nelle tue stesse condizioni ce ne sono tanti. Vedo genitori e nonni piangere dalla disperazione, anche se giorno dopo giorno ti seguono con devozione. Al mondo qualcosa tu puoi ugualmente offrire, non piangere, non soffrire. Vorrei che le mie mani ti potessero curare, che un miracolo ti potesse far camminare. Invece non mi resta altro che darti il mio appoggio morale. Grazie. Grazie a tutti